L'Asl Dipartimento di Prevenzione mi ha comunicato di aver riscontrato sei nuovi casi di positività al Covid-19. Nel contempo però ci sono state anche cinque guarigioni, lo fa sapere il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, nel consueto report serale. Quindi il totale di positivi attuale sale a 20. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate e continua Coppola sono 25.792, mentre sono 13.957 le prime dosi con la percentuale che resta al 64%. Nel pomeriggio di ieri presso il centro vaccinale città di Agropoli sono riprese le somministrazioni per i richiami che proseguiranno anche nella giornata di oggi. Sono inoltre in programma due open day dedicati ai residenti presso il centro vaccinale Covid-19 città di Agropoli, il 31 agosto dedicato alla fascia 12-19 anni e il 3 settembre fascia over 50. In entrambi i casi si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 19. Sono disponibili 300 vaccini Pfizer per ogni giornata. Non è necessaria la prenotazione ma bisognerà essere muniti di tessera sanitaria.